E' arrivato il giorno di Carchinos, il premio alle eccellenze agrigentine scelte da una giuria di qualità. Il premio ideato da Carmelo Cantone è giunto alla quarta edizione. La manifestazione si terrà allo spazio Temenos di via Pirandello. A condurre la serata sarà Elettracurto. Carchinos è anche divertimento e sono tante le sorprese come è avvenuto nelle precedenti edizioni. Il premio speciale è stato assegnato al generale di Corpo d'Armata Luciano Portolano, ma ci sono delle menzioni speciali. Una è quella che verrà consegnata al colonnello Giovanni Pellegrino, comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, al quale è riconosciuto il grande impegno profuso ogni giorno a tutela delle persone per bene. Tra i premiati anche un giovane pasticciere, reduce dalla competizione per aggiudicarsi la Coppa del Mondo di Gelato. Si tratta di Calogero Taibbi di Castrofilippo. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Culturale Antiche Tradizioni Popolari e gode della collaborazione di un team coordinato da Carmelo Cantone.